Più di 5.000 controlli per quasi 170.000 euro di sanzioni amministrative e 385 illeciti riscontrati, 12.000 attrezzature balneari sequestrate per un totale di circa 250.000 metri quadri di spiagge libere restituita alla pubblica e gratuita fruizione dei cittadini. Sono i numeri dell'operazione di polizia giudiziaria spiagge libere condotta dalla Guardia Costiera. L'occupazione abusiva con attrezzature balneari come ombrelloni, lettini e altre dotazioni da spiaggia, oltre a limitare la libera fruizione di spazi pubblici per tutti i cittadini, spiega la Guardia Costiera, genera un indebito profitto per gli occupanti, un mancato introito per l'erario e una distorsione della concorrenza verso tutti quei gestori rispettosi delle norme e che versano correttamente i relativi canoni demaniali. L'operazione, fortemente voluta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, si inserisce nel contesto delle attività di Mare Sicuro 2018 che la Guardia Costiera esercita nel corso della stagione estiva a tutela della legalità e per assicurare in ogni momento un pronto intervento in caso di emergenza in mare. Con questa operazione, ha dichiarato il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, abbiamo voluto rafforzare la presenza dello Stato a tutela di un bene pubblico, quali sono le spiagge, e riaffermare il diritto di tutti i cittadini di fruirne liberamente. Il mare italiano, ha aggiunto il Ministro Toninelli, è di tutti e tutti devono poterne fruire nel rispetto delle regole, dei diritti e delle prerogative di ciascuno. Il Ministero che guido agirà per rafforzare la consapevolezza di quelle stesse regole a beneficio sia degli utenti che degli operatori economici del settore.